buongiorno con la mamma e la mamma sono io non ditemi che è già mattina vi prego si è già mattino io mi devo svegliare accendiamo la luce ecco fatto cosa mi metto questo si dai non ho messaggiato tempo comunque devo fare molto molto attenzione perché l'altra volta mi ha mi ha mi ha calzato dalla finestra comunque non è fatta allora un bel bagno io amo fare i bagni dell'acqua card a comunque soprattutto ho il nuovo shampoo che ho provato e sta di vaniglia è buonissimo allora prestiamoci devo lavarmi i denti perché dopo un appuntamento da d'artista spero che questa via la funzioni i capelli come sempre scesi giù mi preparo la colazione cioè prima di tutto il caffè è buonissimo è della nuova macchina l'ho comprata l'ho comprata qualche settimana fa poi preparo la colazione per i miei figli che non la colazione cosa la cosa che manderanno comunque questo yogurt è buonissimo l'ho comprato da bio market e questa ricetta è molto bella è molto buona buona e bella no è buonissima beviamolo yogurt tutti che mi devo preparare mi devo preparare comunque io faccio la preside della scuola oh mio dio oh mio dio ah ciao questa è la mia amica ora andiamo nelle nostre stanze e sì ciao va bene ci si vede ok lucy ciao ciao ecco il mio ufficio vi piace un po decorativo per una preside ecco mia figlia ciao tesoro cosa ci fai qui non vedi che sto lavorando un bambino mamma mi ha spinto dalle scale cioè cioè che poi il tuo lavoro non è manco questo no invece sì che lo è non mi disturbare non mi interessano queste cose alex dai fuori tra poco la pausa poi parliamo va bene ah la pausa più o meno alle 12 e mezza ci sta dai dopo aver finito alle 3 vado un po fuori di solito vado in questo ristorante insolito grazie ma certo che buono come sempre prendo sempre lo stesso menù scusate stavo mangiando ottimo come sempre signor bob adesso vado a comprare un ecco chi è ciao ci conosciamo forse sicuramente uno dei miei vicini non me non ricordo più ci si vede le arance le banane non voglio stare in queste situazioni imbarazzanti ciao del pane oggi non volevo cucinare per ciò fatemmo solo di panini con la marmellata sono così stanca latte di soia piace un sacco a mia figlia vuole dimagrire ma non è così facile vuole essere come sua madre posso capire banane frutte ma poi le compri e non li mangia nessuno va bene grazie quanto quanto le devo voglio pagare con la carta ci si vede ciao ora vado dal mio appuntamento dal dentista che mi ero quasi scordata sono il numero due quanto devo aspettare accidenti sono la prossima fantastico eccoci sono io grazie gli pulisco i denti tutto qui è tutto ok sì ok avevo tanto tanto l'ho già fatto in lui a parlare è stata molto brava diciamo grazie 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 tante sì dell'acqua mi servirebbe grazie mille ci vediamo ciao a si vero devo prendere il recep giusto ciao arrivati a casa è la cosa è il lavoro più difficile stare a casa ve lo dico non c'è lavoro più difficile di essere una mamma e cambiarsi nelle proprie cosa è successo qui quando arrivano le prendono io ve lo giuro il quante volte ho detto di fare pulizia questo metto lì quest'altro qui comunque questo abito io l'ho comprato io per l'ultimo giorno della scuola però loro non lo vogliono non so perché che disastro fatto ora vado a mettere queste cose già ho dimenticato a fare una cosa mi fatto come sempre bene ora lavo i piatti perché aspettano a me oh no la batteria la batteria è scarica oh no dai come funziona questo coso eccola no no dai allora non importa ci vediamo nella parte due ciao 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 Grazie.